Grazie a tutti. Anche il Molise conferma il trend nazionale, tante le domande per l'anticipo pensionistico, il direttore dell'Inps Rivezzi task force per supportare senza ritardi tutte le istanze. Abbattimento o messa in sicurezza, nelle prossime ore la decisione sull'ex capannone Enel di Campobasso dopo il crollo del solaio, circolazione in tilte e commercianti di via Gazzani sul piede di guerra. Guidava una potente auto senza patente, sul sedile aveva una mazza da baseball di 80 centimetri, trentenne denunciato dai carabinieri di Termoli. Gas Radon in Tribunale Isernia, stamattina esperti a confronto, il presidente Di Giacomo assicura interventi celeri anche su altre strutture pubbliche di competenza. Buongiorno e bentornati all'informazione di Teleregione. Tanta sanità, tanta programmazione sanitaria e anche qualche problema legato appunto alla programmazione dei servizi sul territorio. Questo c'è nel nostro telegiornale, lo avete ascoltato dai titoli. Partiamo proprio dall'incontro che c'è stato questa mattina a Palazzo Vitale tra il Comitato Procardarelli e il neocommissario per la sanità Angelo Giustini. Le richieste dell'associazione sono di discontinuità con le precedenti gestioni, di un hub di secondo livello e poi sull'integrazione con la cattolica. Il presidente del Comitato Iocca diceva bene, a patto che però il centro della Fondazione Gemelli faccia alta specializzazione. Ma ci dice tutto Pierluigi Boragine. Un primo incontro per conoscersi, un primo incontro in cui abbiamo cercato di dare ai neocommissari, che non sono molisani, quella che è la nostra visione di quella che è la situazione della sanità regionale, delle cause che hanno portato la sanità regionale a questo tipo di situazione, collaborativamente suggerire eventualmente qualche linea di soluzione per le criticità che ci sono. Una delegazione del Comitato Procardarelli di Campobasso stamattina ha incontrato il commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini ed il sub-commissario Ida Grossi. Si sono stretti la mano, si sono guardati negli occhi i rappresentanti del Comitato, hanno illustrato la loro visione della sanità molisana e fornito preziosi suggerimenti. I commissari hanno ascoltato con attenzione e preso appunti un incontro preliminare, un primo vertice necessario per registrare le esigenze di tutti. Chiarissime quelle del Comitato Procardarelli, che chiede con forza discontinuità rispetto alle due precedenti gestioni commissariali, quelle targate Iorio e Frattura. Noi siamo, come tutta la popolazione di Campobasso, non soddisfatti di quella che è la situazione attuale, cioè della situazione a cui i precedenti commissari ci hanno portato. A questo punto ci aspettiamo che i commissari vogliano invertire la tendenza che hanno seguito le linee della sanità regionale e agire di conseguenza. Siete, il futuro del Cardarelli? Il futuro del Cardarelli, per noi il Cardarelli come Comitato Procardarelli, non può che essere lab di secondo livello, con una proiezione sia per la montagna sia per il mare, ma come centro di riferimento per tutta la sanità regionale e per tutti i cittadini molisani. Chiarissima è anche la posizione sul rapporto sanità pubblico-privata, nello specifico l'integrazione tra il Cardarelli e la Cattolica. Il Comitato non è contrario, ma a patto che la Fondazione Giovanni Paolo II tenga fede all'idea iniziale, quella di effettuare cure di altissimo richiamo, dice Iocca, per un bacino di utenza di 3 milioni e mezzo di persone e non piccolezze. Guardi, l'integrazione sulla Cattolica è un argomento di cui io mi sono interessato già, ma come minimo da 20 anni, ed è un problema che è sul piatto, e l'integrazione con la Cattolica ci deve essere assolutamente, perché la Cattolica nasce per fare delle cose di altissimo richiamo e le deve fare, è nata per quello, quella è la sua mission. Certo non ci aspettiamo che si vada sprecando in piccolezza. Non ci deve essere sovrapposizione con il pubblico. Ma assolutamente, noi lo dicevamo già 20 anni fa, almeno io lo dicevo già 20 anni fa. A Palazzo Vitale è tempo di audizioni, subito dopo il Comitato Pro Cardarelli, il Neuromed di Pozzilli, mentre domattina toccherà ai sindaci dei comuni che fanno capo all'ambito territoriale di Larino. Adesso andiamo in Alto Molise con la denuncia di Don Francesco Martino, che dice la chiusura del reparto di medicina sancirà la fine del caracciolo entro il 2020. Don Francesco Martino individua anche due responsabilità, una precisa volontà politica e una spaccatura nella comunità agnonese. Lo ascoltiamo nel servizio di Nicola De Santis e nell'intervista che è a cura del portale Eco dell'Alto Molise. Entro il 2020 la dismissione del personale porterà alla chiusura del reparto di medicina e ciò sancirà la fine dell'ospedale Caracciolo. E' la convinzione di Don Francesco Martino, sacerdote da sempre in prima linea nella difesa del nosocomio agnonese. Per Don Francesco la comunità sta assistendo inerme all'eutanasia del proprio ospedale, rispetto alla quale esiste una precisa volontà politica. Abbiamo la percezione di essere in una fabbrica ormai in chiusura, perché entro il 2020 quattro unità mediche di personale cesseranno, per un motivo o per un altro mobilità oppure pensionamento dal servizio. Di conseguenza avremo un reparto di medicina senza medici, cioè praticamente sarà chiuso per mancanza di medici. La chiusura di quel reparto determinerà la fine e la chiusura dell'ospedale. Cosa voglio dire? Ci hanno trattato sempre come una fabbrica in disubicazione. Molti annunci, molti proclami, ma la politica di oggi sa fare solo annunce e sa fare i proclami, non sa affrontare e non vuole risolvere i problemi. Praticamente alla fine la morte dolce, l'eutanasia dolce, con il pensionamento del personale, la dismissione, i servizi che si chiudono per mancanza dei medici, questa è la nostra realtà, che non è solo la nostra, ma sarà di tante strutture della regione molise. Duro il giudizio di Don Francesco anche sul governo regionale. Sostanzialmente Tomasi sarebbe inserito sulla falsariga tracciata dal predecessore con conseguente dismissione del caracciolo. Provanesia per il sacerdote, la mancata firma sugli accordi di confine. A noi non ci hanno dato prospettiva, anche gli accordi di confine sono accordi sulla carta, accordi mai attuati, mai realizzati e mai firmati. L'assessore Paolucci mi diceva, per un anno fa, ma non riesco a capire perché il governatore Frattura non firma. Si è nascose all'epoca dietro il fatto che ha bisogno dell'autorizzazione del tavolo tecnico. Poi è venuto il governatore Toma, ma la sua maggioranza ha altre idee che non so quali siano di rilancio della sanità. Quindi di conseguenza l'accordo di confine che ci poteva salvare non è stato firmato. Sono stati fatti grandi annunci. Io quello che voglio dire è che in Abruzzo, quando dicono una cosa, la fanno. In Molise, quando dicono una cosa, è una cosa che è un annuncio. Non è una realtà. Altre realtà non distanti e non dissimili da Agnone hanno ottenuto il riconoscimento di ospedale, di area disagiata. Il caracciolo mai. Tra le motivazioni, oltre alla noluntas della classe politica, anche le profonde spaccature che per Don Francesco caratterizzerebbero la realtà agnonese. È mancata veramente una volontà politica di risolvere il problema. Purtroppo, ce lo dobbiamo dire, siamo disuniti, siamo disorganizzati, siamo soltanto rancorosi, pensiamo soltanto a litigi personali, pensiamo a spegnere e a lamentarci di qualche voce di critica e pensiamo soprattutto a dire che il quieto vivere sia la cosa migliore. Però se non si è capace di fare sistema, di fare politica, non si è capace di andare ad altro. L'ultima cosa vorrei dire. La colpa è anche e soprattutto la nostra regione agnonesi. Perché quando noi dobbiamo difendere i diritti individuali, siamo in prima linea. Basta che difendiamo i nostri diritti. Ma i diritti collettivi non interessano a nessuno. Purtroppo, anche nelle nostre battaglie di questi anni, molti agnonesi, finché hanno ottenuto quello che volevano dalla classe politica, hanno combattuto. Quando hanno ottenuto, arrivederci. La riforma pensionistica, adesso tante anche in Molise le domande per quota 100. E' così il direttore dell'Inps, Rivezzi, ai nostri microfoni, dice, parla di un'istituzione, dell'istituzione, scusate, di una task force per supportare senza ritardi tutte le istanze. Che debutto? Oltre 800 domande in poche ore per quota 100. L'anticipo pensionistico previsto per chi ha maturato determinati requisiti, 62 anni di età e un'anzianità contributiva di 38 anni. Dati ufficiali forniti dall'Inps, anche il Molise, in linea con il trend nazionale. Il direttore regionale, Elio Rivezzi, annuncia con soddisfazione l'impiego di task force per supportare senza ritardi tutte le istanze. Direttore quota 100, prime sensazioni più pubblico che privato. Quota 100 probabilmente nel nostro territorio avrà un impatto maggiore nel pubblico, proprio per la composizione della forza lavoro che esiste in Molise rispetto al privato. Direi che ancora non abbiamo numeri per quanto concerne il Molise, possiamo immaginare un trend a livello nazionale. Nella prima giornata sono arrivate oltre 800 domande. Io vorrei solo rassicurare i lavoratori del Molise che noi siamo pronti. Abbiamo già attivato delle task force sia sulla sede di Senne che di Campobasso, chiaramente con impatto anche sulle agenzie di Termoli, per cui tutte le professionalità migliori sono state attivate e stiamo già lavorando. Quindi tranquillamente noi saremo in grado di supportare senza alcun ritardo tutte le istanze. Il sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato dunque preso d'assalto. Molti cittadini hanno presentato la domanda autonomamente senza rivolgersi ai patronati. Come comportarsi e cosa fare? A tal proposito i consigli del direttore Rivezzi. Allora, intanto è già disponibile sul nostro sito l'applicativo per poter fare domande. Tant'è che ne sono già arrivato 800, tra cui la cosa sorprendente è che molte domande sono pervenute non dai patronati ma dai cittadini. Quindi vuol dire che l'alfabetizzazione informatica sta aumentando in Italia e questo ci fa piacere. affrontare la scelta, che è una scelta delicata, in maniera serena, naturalmente valutando con delle proiezioni da qui al triennio successivo quali sono, non dico le penalizzazioni perché non si può parlare di penalizzazioni, ma il mancato periodo di contribuzione che potrebbe dar diritto a una maggiore pensione. E naturalmente per poter fare delle scelte previdenziali mature, come in questo caso, bisogna consultare. Noi siamo pronti anche a fare la consulenza, così come lo stesso applicativo nel sito dell'Inps ci sono degli applicativi utili per poter valutare l'impatto. Dunque presso gli uffici di Campobasso è possibile usufruire di un servizio di consulenza. In tanti si sono rivolti all'Inps per avere delucidazioni sull'iniziativa del governo gialloverde che potrebbe mandare in pensione tanti italiani e generare nuovi posti di lavoro. No, non sono qui per quota 100, ve ne spiace, sono già pensionata. Hai già pensionata? Sì, forse sì. Lei è qui per quota 100? Per... no. No. Ancora non va in pensione. No. Ci vuole ancora molto tempo. Ci vuole molto tempo ancora. E passiamo alla cronaca. Adesso, ieri pomeriggio ci spostiamo a Termoli, i carabinieri della stazione, coordinati dal comandante nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione di furti e reati contro il patrimonio. Nell'ambito di uno dei tanti posti di controllo, hanno intimato l'altano a BMW di grossa cilindrata. Alla guida c'era un giovane di Campomarino, il trentenne in particolare, ha esitato a fornire documenti di circolazione richiesti dai militari. Ed è risultato poi che non aveva con sé la patente, perché gli era stata ritirata qualche giorno prima da un altro equipaggio dei carabinieri, sempre a Termoli. Il documento infatti era scaduto. Dietro al sedile non è passata poi inosservata ai militari una mazza da baseball in legno della lunghezza di circa 80 centimetri. Dal momento che il trentenne non si stava recando al campo per una partita tra amici non è riuscito a fornire una valida giustificazione. Perché portasse in auto la mazza da baseball è scattato il sequestro dell'attrezzo e anche il deferimento all'autorità giudiziaria di Larino risponderà di porto abusivo, di strumenti atti a offendere. Inoltre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Restiamo a Termoli dove il sindaco ha firmato l'ordinanza con cui chiude una delle palazzine di Rio Vivo a causa del costone che è nuovamente interessato da uno smottamento. Il provvedimento sarà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area. Il costone ha infatti ricominciato a cedere a causa della pioggia che negli ultimi giorni ha colpito la città adriatica e sta minacciando la sicurezza delle abitazioni che si trovano alla base appunto del costone. Terra, fango, acqua e detriti hanno occupato anche la sede stradale dove il comune ha provveduto a sistemare le transenne per evitare incidenti. Il sindaco Sbrocca ha ordinato l'evacuazione di sette persone che trascorreranno i prossimi 15 giorni in alcuni alberghi della città. Adesso a Campobasso dove è attesa nel pomeriggio la decisione sul destino dell'ex capannone che sabato scorso ha subito il crollo del solaio. Intanto la città è in difficoltà a causa dei percorsi alternativi previsti per il traffico e i commercianti già in crisi sono sul piede di guerra pronti a scrivere un reclamo a comune e soprintendenze ai proprietari dell'immobile. Cristina Niro. Campobasso ancora spezzata in due, centro urbano isolato, commercianti in difficoltà, traffico spostato su percorsi alternativi non sempre funzionali alle esigenze di lavoratori e studenti. L'ex capannone Enel è ancora lì in attesa che le autorità al lavoro in queste ore decidano cosa fare. Abbatterlo, metterlo in sicurezza, continuare con le verifiche ipotizzando qualche sospetto sul crollo. Soltanto nel pomeriggio arriveranno le prime risultanze a fronte anche del nuovo vertice che si è tenuto questa mattina. Ancora ieri infatti la procura ha chiesto l'acquisizione di alcuni documenti inerenti, planimetrie e progetti che riguardano l'ex capannone. Intanto la chiusura del tratto stradale di via Gazzani ha provocato conseguenze spiacevoli, soprattutto a carico degli esercenti. E di questo è particolarmente dispiaciuto il sindaco Antonio Battista, che anche stamattina si augurava di poter apprendere buone notizie dalle risultanze info-investigative che giungeranno nelle prossime ore dalla procura. E sul caso si augura di poter lavorare immediatamente dopo con la revoca dei divieti. La chiusura del traffico per noi è stata deleteria, ammettono intanto i commercianti della zona, che hanno subito un calo delle vendite rilevante in questi ultimi giorni, con il centro urbano chiuso al traffico e fin anche ai pedoni in alcuni tratti. Da sabato non abbiamo clienti e ovviamente andare avanti così significa mettere in discussione fin anche il futuro di piccoli esercizi che vivono del quotidiano. Adesso ci sono pure i saldi e non vendere in questo momento vuol dire mandare in fumo mesi e mesi di sacrifici. I commercianti di Via Gazzani infine hanno annunciato che a breve presenteranno un reclamo ufficiale al comune, alla sovrintendenza e al proprietario dell'immobile. Adesso parliamo di Boiano all'indomani del caso che è scoppiato per le presunte violenze di un 43enne i Sernino ai danni di alcuni minori stranieri. La città si interroga intanto il legale dell'altra indagata, ex compagna dell'educatore, professa la sua innocenza, arrestato due volte invece l'uomo in meno di un anno. Valentina Ciarlante. Concluse le indagini sul presunto caso di maltrattamenti ai danni di alcuni minori stranieri, ospiti fino al settembre del 2017 di due centri di Boiano, ora la parola passa a procure e avvocati. Se da una parte ci sarà quasi sicuramente la richiesta di rinvio a giudizio per entrambi gli indagati, il legale della quarantenne esernina, ex compagna dell'educatore che avrebbe picchiato, minacciato e offeso i ragazzi che poi hanno sporto denunce alla polizia, continua a proclamare l'innocenza della sua assistita. Nelle prossime ore Fabio Milano acquisirà l'intero fascicolo e sta già lavorando alla memoria difensiva. Nel frattempo a Boiano la popolazione si interroga sull'accaduto e sono molti i dubbi che alimentano questa storia. Certo è che ci sono tante testimonianze raccolte dalla squadra mobile di Campobasso che tratteggiano una vicenda inquietante fatta di una violenza continuata. Il 43enne, presunto responsabile, attualmente è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora dopo aver passato diversi mesi in carcere per aver picchiato la donna, ex titolare di quelle due strutture. A ottobre del 2017 la mandò in ospedale dopo averle procurato traumi su tutto il corpo e nel luglio dello stesso anno la aggredì di nuovo. Non appena uscì dal carcere la minacciò e ferì con un coltello. Venne arrestato nuovamente dalla squadra mobile di Isernia e per lui si riaprirono le porte del penitenziario di Ponte San Leonardo. Riunione in tribunale a Isernia per affrontare il problema relativo alla presenza di gas Radon nel seminterrato. Il presidente Vincenzo Di Giacomo annuncia interventi celeri anche su altre strutture pubbliche di sua competenza. Vediamo il servizio. Per il presidente del tribunale di Isernia è inutile e pericoloso nascondere la polvere sotto al tappeto. Esiste un problema legato alla presenza di Radon nel seminterrato del palazzo di giustizia che va affrontato con metodi risolutivi. È il motivo per cui ha convocato una riunione a cui hanno partecipato Arpa Molise, Ordine Nazionale dei Geologi, magistrati, avvocati e giornalisti, oltre naturalmente ai dipendenti del tribunale Pentro. Per la riunione odierna ho invitato anche l'Ordine Nazionale dei Geologi ed oggi abbiamo il vicepresidente dell'Ordine Nazionale dei Geologi, oltre che il tesoriere. Il vicepresidente, il dottor Giannetti, è uno dei massimi esperti a livello nazionale, in campo nazionale, in materia di Radon. La riunione di oggi servirà a stabilire le cause di questo che abbiamo qui nell'archivio, questa sostanza che come noto è una sostanza radioattiva, ed anche a trovare i rimedi per far fronte a questa problematica. L'Ordine dei Geologi ha analizzato scientificamente il fenomeno legato alla presenza del Radon nel seminterrato, attraverso una relazione stilata dal vicepresidente nazionale giovine. Beh, innanzitutto occorre conoscere bene la struttura e la natura del problema che è sorto. Sicuramente se ne esce, questo in tutte le situazioni, esistono dei sistemi relativamente anche semplici per poter abbattere quelli che sono i livelli del gas Radon. Sostanzialmente si tratta o di sistemi di aspirazione o di pressurizzazione in modo che si eviti la risalita del gas direttamente dal terreno. È chiaro che occorre avere una buona conoscenza sia con altre misure, quindi una specie di monitoraggio che possa permettere di verificare a diversi punti l'insorgenza dove ci sono maggiori concentrazioni. Dopodiché, avendo anche una conoscenza della struttura del fabbricato, qui interviene in questo caso non il geologo ma quanto anche un esperto, un ingegnere piuttosto che conosce le strutture o architetti, si può, verificando la presenza per esempio di un vespaio erato piuttosto che invece l'assenza di un vespaio e quindi con interventi mirati a dissipare questo gas e allontanarlo dalla situazione che si è creata in modo da poter abbattere questi tenori al di sotto delle soglie di sicurezza che sono poi quelle consentite a livello di norma. Il radone è un fenomeno pericoloso per la salute dell'uomo. La prolungata esposizione dell'individuo al gas può essere letale. È per questo che Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha invitato le autorità preposte a non sottovalutare il problema. Bisogna fare questa precisazione che è l'esposizione prolungata a questo gas che può creare dei problemi alla salute. Ovviamente quando parliamo di esposizione prolungata si parla di anni, se non addirittura decine di anni. Succede che questo gas, che è un gas inerte radiogenico, va a collocarsi sugli alveoli polmonari e chiaramente rilascia queste radiazioni che a lungo andare possono creare dei problemi anche delle neoplasie. Ma ripeto, è l'esposizione continua e per tanto tempo che provoca questi effetti. Diciamo che l'incidenza, almeno gli studi non sono così numerosi, e quindi non ci sono evidenze per esposizioni occasionali che possano far pensare a un rapporto di causa-effetto. Torniamo a Termoli e adesso parliamo della decisione del Comune di non presentare domanda per la bandiera blu. Una scelta criticata dai balneatori del Sib, ma il Sindaco sbrocca non ci ripensa e spiega che il vessillo non è tra le priorità della sua amministrazione. Giovanni Cannarsa. La mancata presentazione della domanda per l'assegnazione della bandiera blu 2019 ha scosso in qualche modo l'indotto turistico di Termoli. L'argomento è stato tirato fuori dal cilindro dal Movimento 5 Stelle che tramite un'interpellanza ha chiesto a Sbrocca di chiarire la situazione. Nella vicenda sono entrati anche i balneatori che attraverso Nico Venditti, presidente del Sib, hanno voluto fornire la propria versione dei fatti. Inutile sottolineare la delusione della categoria che segue da vicino la vicenda e che suppone che in qualche modo il vessillo della Fera presenti sempre un biglietto da visita per la città adriatica. Lo scorso anno a Termoli non è stata assegnata la bandiera blu a quanto pare a causa della raccolta differenziata e delle problematiche collegate al depuratore del porto. In una cittadina detto Nico Venditti che fa di tutto con l'obiettivo di cercare e di risollevare l'economia locale il sindaco si permette anche di snobbare la bandiera blu. Dal canto suo però Angelo Sbrocca è stato chiaro il vessillo non è tra le priorità del comune di Termoli. Confermo che è vero, non è stata presentata la domanda come qualcuno aveva fatto anche ieri la domanda. Per la motivazione noi siamo rimasti molto delusi della mancata concessione del vessillo l'anno passato e abbiamo monitorato dal punto di vista anche della nostra immagine come città se si avesse un rifletto in relazione anche al turismo. Abbiamo visto dati alla mano che nel 2018 non vi era stato il vessillo ed è stata un'annata al netto purtroppo del terremoto che ha subito e ha fatto subire al turismo termolese uno stop. Abbiamo visto che c'è stato invece un incremento del turismo. quindi correre i vessilli, i vessilli anche in cui credevamo non è per ora, per ora io dico, però l'anno rimarrà uno dei principali obiettivi della nostra amministrazione. Vedremo in seguito il nuovo governo cittadino cosa intenderà fare per l'anno prossimo ma possiamo vivere anche senza il vessillo della bandiera blu e vivere bene. Qualcuno però suppone che sia tutta una strategia politica con tante situazioni ancora irrisolte presentare la domanda sarebbe un grande azzardo anche perché la risposta arriverebbe verso la fine del prossimo mese di maggio quando Termoli sarà ormai in campagna elettorale. No, guardi, assolutamente perché le dico a breve faremo anche una conferenza stampa ma noi siamo stati come amministrazione quell'amministrazione che in tema ambientale che è la cosa che ci contesta molto spesso abbiamo fatto di più di ogni altra amministrazione e questo lo possiamo dimostrare con i fatti e non con le parole o con le chiacchiere come molti finti oppositori e oppositori fanno. Era l'ultimo servizio, vediamo insieme le previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 31 gennaio la perturbazione si allontana rinnovando in mattinata un po' di variabilità migliora poi nel corso della giornata con schiarite via via più ampie sino a cieli sereni o poco nuvolosi temperature in generale aumento venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sudo-occidentali adriatico da molto mosso a mosso ecco le temperature sui maggiori centri della regione Campobasso minima 0, massima 7 gradi Isernia 1,9, Termoli 2,10, Venafro 2,11 Bene, ed è davvero tutto per questa edizione io come sempre vi ringrazio per aver scelto Teleregione vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro Tg a partire da quella delle 19.30 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti